Sono Gino Cucchi, Presidente del Comitas di Toronto. Il 29 di dicembre del 2013, quest'anno ovviamente, facciamo la settima conferenza nazionale dei giovani italo-canadesi, con la partecipazione del centro scuola e il congresso nazionale italo-canadese. Perché fare questa conferenza? Vogliamo dare l'opportunità ai nostri giovani di esibirsi, di chiedere cosa vogliono e cosa il governo italiano dovrebbe fare per mantenere la lingua e la cultura italiana, non soltanto in Canada, ma in tutto il mondo. Ovviamente questi italo-canadesi, che sono di seconda e terza generazione, hanno delle aspirazioni molto di più di quelle che abbiamo avuto noi in passato e hanno ragione. Perché? Ovviamente il mondo è diventato molto piccolo e loro chiedono e vorrebbero chiedere ancora una volta al governo italiano di riconoscere i titoli di studi canadesi e ovviamente il Canada ha riconosci i titoli di studi italiani, dei giovani che vengono qui in Canada per lavoro o per studiare la lingua inglese. Ovviamente è un caso buono, è un'opportunità giusta per questi giovani e speriamo che la conferenza riesca il meglio possibile. Invito con questo video ovviamente i nostri giovani italo-canadesi a presentarsi e per registrarsi alle nuove in punto al giorno della conferenza, alla sala che già conoscete. Quindi è stato un piacere parlare con voi e speriamo che lo rifaremo il più presto possibile.